Ciao a tutti, oggi parlerò dei cosiddetti biomateriali. Che cosa sono i materiali per prima cosa? Sono quelle sostanze fisiche utilizzate per produrre oggetti. E sin dai tempi più antichi l'uomo ha sempre utilizzato dei materiali per produrre oggetti, proprio per un'esigenza di dover adempiere a determinati i suoi bisogni specifici. Mentre i biomateriali non sono altro che delle sostanze inerti nei confronti dell'organismo che vengono appunto progettate per essere impiegate in un sistema vivente sostituendo un organo, un tessuto, una funzione di un essere umano. Facciamo un po' di storia su quelli che sono i biomateriali. Già nelle civiltà più antiche si eseguivano trattamenti ortodontici, per esempio con del legno. Nel 600 a.C. i maia addirittura andavano ad utilizzare conchiglie marine come impianti dentali. Poi gli egizi e greci utilizzavano l'oro. Nel 1400 e nel 1500 d.C., cioè in questa fascia di tempo praticamente, Leonardo da Vinci e Galileo Galilei iniziarono appunto a fare i primi studi sulla biomeccanica. Tra il 1600 e il 1700 fu cominciato appunto ad essere utilizzato l'acciaio a scopo, diciamo, ortopedico. Nel 1789 George Washington invece, che appunto fu il primo presidente degli Stati Uniti d'America, iniziò a produrre delle dentiere in avorio dai popotami. Nel 1940 Kolf in Olanda creò un sistema di dialisi renale con un involucro delle salsicce. Nel 1950 Ridley nel Regno Unito utilizzò il polimetilmetacrilato per le lenti intraoculari. Nel 1970 in Giappone fu utilizzato per la prima volta il silicone per realizzare delle protesi di seno e poi successivamente fu introdotta la pelle artificiale in collagene e solfato di chondroitina per curare le ustioni. Quindi c'è stata una grossa evoluzione dei materiali negli anni a scopo medico. Nel 1980 Schmidt negli Stati Uniti d'America utilizza fili di struttura biodegradabili in acciaio polilattico, tra il 1980 e il 1990 Brain Mark in Svezia sviluppa impianti dentali o sto integrati in titanio basandosi poi sulle leggi di Wolff che erano appunto antecedenti. Poi in ambito ortopedico furono anche utilizzate delle teste femorali in allumina. Però per quanto riguarda tutti questi biomateriali che negli anni hanno subito delle evoluzioni sono state fatte anche numerose scoperte in più sulle caratteristiche e sulle proprietà che deve avere un materiale per poter interagire col nostro organismo e quindi per sostituire un organo, un tessuto perso. Una caratteristica fondamentale e veramente, veramente molto, molto importante che deve possedere un biomateriale è appunto la cosiddetta biocompatibilità. Che cos'è la biocompatibilità? Non è altro che la capacità di un materiale di determinare da parte di un sistema vivente una favorevole reazione alla sua presenza in una, diciamo, specifica applicazione. E ovviamente la biocompatibilità di un materiale che viene utilizzato a scopo medico e come dispositivo medico è approvata da organismi specifici come la Food and Drug Administration o il marchio della Comunità Europea e così via. prima ovviamente dell'uso in ambito clinico. Per questo motivo ovviamente si fanno dei test di biocompatibilità su questi materiali. Ma quali sono quelle situazioni cliniche che possono richiedere l'applicazione di un dispositivo medico e quindi l'utilizzo e l'impiego poi di questi biomateriali? Ovviamente per l'orecchio ci sono le cosiddette protesi osse quando abbiamo ipoacusia, per esempio, o un'assenza completa molto spesso dell'udito oppure anche protesi cosmetiche, le cosiddette epitesi, protesi facciali vengono utilizzate per ricostruire, diciamo, l'orecchio il padiglione auricolare mancante a scopo prettamente estetico. Per l'occhio, per esempio, ci sono le lenti a contatto, per esempio. Ma anche gli occhiali non sono delle protesi che vengono proprio direttamente in contatto con l'occhio stanno comunque a una certa distanza, però sono comunque delle protesi. I denti, se mancano, ci sono appunto gli impianti, le protesi e così via. Per il polmone gli ossigenatori, per il cuore i pacemaker e i ventricoli artificiali, per i reni i dializzatori, per l'apparato gastrointestinale le suture e gli stent, per l'apparato urinario invece i cateteri, per la pelle suture e pelle artificiale, per le arterie invece suture, protesi vascolari, stent. Per l'osso, mezzi di ostiosintesi e protesi articolari. Quali requisiti e quali funzioni devono comunque sia possedere questi biomateriali? È chiaro che devono correggere difetti congeniti che possono provocare nell'organismo delle insufficienze funzionali, vengono impiegati per patologie che possono provocare dei danni irreversibili a carico dei tessuti, oppure in presenza di atrofia tessutale o di mancata rigenerazione dei tessuti, oppure per compensare dei gravi problemi estetici che possono poi andarsi a riverberare anche su gravi problemi psicologici. Per esempio, se a un soggetto manca una parte del padiglione auricolare o un intero padiglione auricolare, esso non si accetterà, quindi in questo caso l'impiego di una protesi potrà essere utile, per esempio. Inoltre devono trasmettere il carico e distribuire correttamente lo sforzo. In maniera del tutto fisiologica la distribuzione dei carichi ovviamente deve essere, come per esempio deve essere per una protesi dentale. Si cerca sempre di andare verso le protesi che sono fisiologiche. Un altro requisito importantissimo è appunto la capacità articolare, quindi alcuni tipi di protesi devono ripristinare la funzione in toto e in parte di un'articolazione, altri devono controllare il flusso sanguigno come gli stent, altri devono riempire delle cavità, come per esempio i materiali che vengono utilizzati per le otturazioni dentali, per esempio, ma non soltanto in ambito dentoiatrico, ci sono anche altri materiali con questo tipo di requisito funzione. Devono generare impulsi elettrici, basti pensare al pacemaker del cuore, devono migliorare la funzione visiva come appunto le lenti a contatto o anche le protesi, cioè gli occhiali, e devono migliorare anche la funzione uditiva ed eventualmente devono anche rigenerare i tessuti. Basti pensare per esempio come biomateriali per la rigenerazione dei tessuti agli innesti di osso bovino che molto spesso vengono appunto utilizzati, sono comunque dei biomateriali. Chiaramente i biomateriali utilizzati in ambito medico e anche in ambito odontoiatrico sono diversi. Un qualsiasi medico, un qualsiasi odontoiata dopo la laurea, infatti, può, con i suoi sbocchi lavorativi, entrare a lavorare in alcune industrie, diciamo, atte alla produzione di biomateriali, per occuparsi appunto di questi aspetti. In questo video non andrò a spiegare in maniera approfondita le caratteristiche chimico-fisiche specifiche di ogni materiale o le specifiche indicazioni cliniche di ogni biomateriale. In questa parte finale del video andrò semplicemente a fare sostanzialmente una descrizione molto generale dei principali biomateriali utilizzati in ambito medico, ma soprattutto in ambito odontoiatrico. Cosa sono i biometalli? I biometalli appunto sono quei metalli che vengono a contatto con l'organismo, quindi che vengono utilizzati fondamentalmente per, diciamo, sostituire parti dell'organismo. I metalli hanno trovato sempre un largo impiego per, appunto, l'utilizzo per il corpo umano fondamentalmente, soprattutto nella sostituzione dei tessuti duri, e quindi delle ossa e dei denti. Però alcuni metalli, non tutti, presentano un limite che è appunto quello della corrosione nel momento in cui vengono a contatto con i fluidi biologici. E quindi si può essere appunto la perdita della funzione dell'impianto, la contaminazione batterica, per esempio, e il rilascio nell'organismo di ioni tossici. Ecco perché si dice che un biomateriale, un biometallo, deve essere biocompatibile e quindi inerte, cioè non deve rilasciare gli ioni nel cavorale, perché appunto questi ioni potrebbero essere cancerogeni, potrebbero dare reazioni allergiche, eccetera, eccetera. Basti pensare, per esempio, se nel cavorale si utilizzano delle leghe diverse, si verifica il cosiddetto fenomeno del bimetallismo, e quindi si vengono a creare delle vere e proprie correnti elettrogalvaniche all'interno del cavorale, responsabili di cheloidi, di reazioni lichenoidi e così via. Quindi mai il fenomeno del bimetallismo nel cavorale. Gli acciai inossidabili sono appunto tra i biometalli più utilizzati, sono delle leghe a base di ferro, con carbonio a basso contenuto e crumo ad elevato contenuto, e a volte ci può essere anche il molibdeno. L'acciaio inox è veramente molto utilizzato, anche in ambito odontoiatrico, per la realizzazione fondamentalmente di figli ortodontici, pinze, strumenti chirurgici e così via. Poi abbiamo appunto il cobalto, che è un radiosotopo, che viene utilizzato spesso per la cura dei tumori, ma anche in alcune leghe metalliche per creare i motori degli aerei, ma anche in ambito odontoiatrico nelle leghe al cromo cobalto molibdeno. Prima c'era in questo tipo di lega anche il nichel, però adesso è preferibile che il nichel non sia presente, perché comunque è allergizzante. Poi abbiamo appunto il titanio, che secondo alcuni studi sarebbe praticamente il metallo più biocompatibile nei confronti dell'organismo, dei costi comunque sia più elevati. Viene utilizzato per creare dei propulsori marini, perché ha un'elevata resistenza alla corrosione. Viene utilizzato il biossido di titanio in alcuni filtri solari, in alcune creme solari, perché protegge la pelle. Viene utilizzato per eseguire i piercing, o viene utilizzato come materiale per le clips e per le suture, ma anche viene utilizzato per le protesi ortopediche e odontoiatriche, quindi anche per gli impianti, per esempio. Quando il titanio viene a contatto con l'organismo, generalmente tende a dare una risposta infiammatoria che non è elevata, ma risulta essere di moderata entità. Poi c'è invece il nichel titanio. Questo bisogna prestare attenzione a utilizzarlo, perché in alcuni pazienti il nichel titanio può dare reazioni allergiche, soprattutto se il paziente è allergico al nichel. La caratteristica del nichel titanio è che ha la cosiddetta memoria di forma e la superelasticità. Sono due proprietà molto importanti, tant'è che viene utilizzato in ambito ortodontico per gli archi ortodontici, ma anche in altri ambiti viene utilizzato per creare dei filtri per la vena cava, come clips per anirismi intracranici, per i muscoli contrattili, per i cuori artificiali o per protesi ortopediche. E poi tra i metalli abbiamo anche l'oro, elevata biocompatibilità a costi alti, ma al giorno d'oggi viene veramente poco utilizzato l'oro in ambito odontoiatrico. Prima però si utilizzava molto di più. Le ceramiche invece vengono utilizzate in diversi ambiti medici, dall'ortopedia alla odontoiatria, cioè per impianti o per denti artificiali, o anche in otorina l'aringoiatria per protesi degli ossicini dell'orecchio interno, oppure per la chirurgia ricostruttiva del naso e della gola, oppure anche per la cardiologia, per le protesi valvolari. Tra queste per esempio abbiamo l'allumina o anche le bioceramiche, come la fluoridrossiapatite, che si stimola la sua formazione nella fluoroprofilasti, per esempio, e poi la zirconia, per esempio. Come dicevo prima, non andrò a spiegare tutti questi materiali nello specifico. Per chiudere il video, due parole sui cosiddetti biopolimeri, sono anche chiamati materie plastiche, anche queste vengono molto utilizzate come componenti di protesi per il nostro organismo. Il problema di questi materiali è anche legato all'inquinamento molto spesso. C'è un'isola nell'oceano, non mi ricordo in quale oceano, di plastica, è soltanto plastica praticamente, però vengono ancora utilizzati. Ma attenzione, ci sono vari tipi di biopolimeri. In ambito odontoiatrico è molto pericolosa l'allergia al PMMA, cioè al polimetilmetacrilato, in quel caso bisognerà utilizzare altri tipi di materiali. In ambito odontoiatrico si utilizzano per protesi e otturazioni e per denti artificiali i biopolimeri, ma anche in altri ambiti della medicina i biopolimeri oramai sono largamente utilizzati. Bene, con questo video finito ricordatevi di iscrivervi al canale, se avete domande potete lasciarle nei commenti. Ciao! Grazie! Grazie!